A Cavaglià, in zona tranquilla e riservata, circondata dalla campagna, a pochi minuti dal centro del paese proponiamo cascina con terreno annesso di circa 18.000 metri quadrati pianeggiante e ben livellato. Questa proprietà sorge in una zona facilmente raggiungibile dagli svincoli autostradali di Santià e Carisio. Il fabbricato è adatto ad abitazione propria, anche bifamiliare, oppure per realizzare una struttura ricettiva per accogliere i turisti che vengono nel Biellese attirati dal territorio che, per la sua varietà ambientale, è abbracciato in parte dalle Alpi e è ideale per gli appassionati degli sport all'aria aperta, tra cui escursionismo ed il trekking. Numerosi sono i sentieri percorribili sia nella parte pianeggiante tra baraggi e ricetti, castelli ed ecomusei, che nella parte più montana dove spiccano vari rifugi attrezzati, borghi di montagna, santuari alpini di gran pregio. Nelle vicinanze di grande importanza naturalistica, poiché situato nella serra morenica di Ivrea, il lago di Viverone che offre servizi esclusivi, ristoranti, percorsi, viste mozzafiato e passeggiate. Si può partecipare alle giornate organizzate di bird watching, dato che sono presenti diversi tipi di uccelli nella zona del lago e anche dilettarsi nella pesca sportiva, uno dei principali sport del lago. Per gli amanti degli sport acquatici più estremi è possibile affittare canoe o vele. L'abitazione, sviluppata su due livelli, si presenta in ottimo stato di manutenzione e in parte rinnovata di recente. La generosa metratura permette di disporre degli spazi interni a seconda delle esigenze. La generosa metratura permette di disporre degli spazi interni a seconda delle esigenze. La generosa metratura permette di disporre degli spazi interni a seconda delle esigenze. La generosa metratura permette di disporre degli spazi interni a seconda delle esigenze. Per tutte le informazioni chiama o scrivi una mail, siamo sempre a tua disposizione.